Benvenuti a questa sessione, salto velocemente il nome, riferimenti eccetera, Marco De Sanctis, li trovate poi nelle slide che scaricate, quindi direi di andare avanti. 35 minuti, ce la facciamo. Grazie agli sponsor. Ok, agenda. Realizziamo il sito dei Community Days, ottimizzato per essere utilizzato su mobile, a questo punto direi in molto meno di un'ora. Ok, benissimo. Dunque, intanto una piccola e veloce introduzione, cioè quali sono le sfide che dobbiamo affrontare quando vogliamo sviluppare un sito web ottimizzato per mobile? Vi lascio perdere tutta la pappardella sul perché dobbiamo sviluppare siti fruibili per mobile, perché il traffico è in costante aumento e oramai deve essere fruito anche dal dispositivo, eccetera, in mobilità e così. Quindi, l'aspetto importante è capire quali sono le difficoltà tecniche che possiamo incontrare. Ce ne sono diverse. Allora, intanto c'è il problema che il sito deve essere visualizzato in maniera sufficientemente grande per essere letta a colpo d'occhio. Insomma, non vogliamo costringere l'utente a zoomare in continuazione sulle parti di interesse. Ok. Ci sono problematiche relative anche alla navigazione tra le pagine, perché la navigazione deve essere molto meglio tarata rispetto alla controparte desktop. Una pagina troppo lunga mi costringe a scrollare in continuazione, magari per arrivare al menu che è in basso e quindi non va bene. Ok. D'altro canto, neanche posso costringere l'utente a navigare in continuazione tra una pagina e l'altra, per una miliardi di pagine, per leggere un articolo o un contenuto che ho voluto pubblicare. Quindi, seconda problematica, gestione della navigazione. Terza problematica, l'interazione con il dispositivo, com'è? Touch. Giusto? Quindi, touch vuol dire che il link deve essere sufficientemente grande per essere premuto con il dito. Stessa cosa, button, radio button, check box, di dimensioni sufficienti per garantire comunque un'interazione che sia priva di particolari problematiche e difficoltà da parte dell'utente. Benissimo. Quindi, una serie di difficoltà tecniche che ci troviamo ad affrontare quando dobbiamo sviluppare, quali sono i tool che abbiamo a disposizione? Perché a questo punto capiamo che voler gestire queste problematiche vuol dire o scriversi a manina tutta una serie di skin, realizzare una serie di immagini, eccetera, in modo da garantire un'esperienza gradevole all'utente, oppure magari appoggiarsi a qualche framework che fa questo per noi. Ok? Ce ne sono diversi in giro, c'è Sencha Touch, Kendo UI, che per esempio è un framework di Telerik a pagamento, e quello di cui vi parlerò oggi invece è JQuery Mobile. Perché JQuery Mobile? Quanti di voi scrivono più o meno JavaScript durante la loro giornata lavorativa? Alziamo la mano. Quanti di voi usano JQuery? Vi siete risposti. Perfetto. Allora, bene, due parole su JQuery Mobile, è poco più di un anno che è in giro, io lo seguo più o meno dalla primissima alfa, e fondamentalmente fa tutto quello che ci siamo detti, e in più ha il grosso pregio di farlo cross browser e cross device. Cioè cosa vuol dire? Siccome si è tornati un po' indietro nel tempo, no? Cioè chi ha sviluppato per web qualche anno fa si ricorda tutte le varie, anche oggi veramente, le varie problematiche per far sì che il stesso sito si veda bene su Chrome, sui device, e la stessa roba forse ancora peggio perché cambiano anche magari le API JavaScript dei vari sistemi. Ecco, JQuery Mobile supporta un gran numero di sistemi, qui ho cercato di raggruppare più o meno la classificazione che hanno fatto, diciamo che i sistemi di grado A sono quelli che hanno praticamente tutte le feature fondamentali di JQM, quindi sono tutti più moderni se vogliamo, da Android, Windows Phone, iOS, eccetera. Quelli di grado B hanno tutto, tranne che la navigazione Ajax, e quelli di grado C non hanno nulla, però almeno garantiscono che funziona come funzionava prima, quindi possiamo usarlo senza grosse problematiche. A quel link trovate proprio la documentazione ufficiale che spiega nel dettaglio questa cosa che vi ho appena accennato. Bene, tempo e tiranno, iniziamo a dare un'occhiata allora proprio al codice, visto che dobbiamo realizzare un sito web in mezz'ora. Benissimo. Una cosa velocissima, io userò ASP.NET MVC, non so quanti di voi lo conoscano, però fondamentalmente non è tanto sul framework server side che verte la sessione, quindi ho scelto MVC perché è molto sviluppo HTML, grezzo, insomma ci fa scrivere l'HTML senza inquinarlo più di tanto con del codice server side, quindi non soffermiamoci sul codice server, guardiamo il codice client che comunque risulterà chiaro anche a chi non conosce bene MVC. Quindi, primo passo, installare GQuery mobile. Se usate Visual Studio 2010 per sviluppare, c'è un package di NuGet che vi installa tutte le dipendenze, GQuery, eccetera, altrimenti lo scaricate dal sito ufficiale, poi vi do i link, oppure c'è il CDN di GQM, quindi avete tutto un gran numero di risorse per poter gestire l'installazione. Benissimo, poi una volta installato, quello che dobbiamo fare è referenziarlo nella nostra master page o nella layout page nel caso di MVC. Cosa vuol dire questo? Vuol dire includere intanto il CSS, ok, che viene fornito insieme al package, GQuery, versione 1.6.4 successiva, è GQuery mobile, ok? Eventualmente potete aggiungere anche dei vostri CSS personalizzati, io qui l'ho fatto, se avete necessità ovviamente di personalizzare il look dell'applicazione o qualsiasi cosa. Bene. Detto questo, andiamo nella nostra prima pagina del sito web dei Community Days, ok? E iniziamo a capire qual è l'anatomia di una pagina per GQM. Una pagina in GQM è fondamentalmente costituita da 4 div, ok? Un div con data role uguale page, che è il contenitore della pagina, l'attributo data role è ignorato dal browser, quindi possiamo metterlo senza troppi patemi d'animo, e al suo interno 3 div, header, content e footer, ok? Nel div, header possiamo mettere qualcosa tipo h1, cdays.it, nel div footer mettiamo copyright 2012, adesso, e nel contenuto mettiamo magari un po' di roba che ho preso dal sito, ok? Proviamo a eseguire l'applicazione, anzi, la salvo e la vediamo subito dal device, che ho predisposto qui. Faccio un bel refresh, adesso al di là dello zoom, che è quello che è, però vediamo che il testo, vediamo fino a un certo punto, però immaginiamo, che il testo è scritto in maniera molto piccola, se io voglio provare a leggerlo, sono costretto a zoomare, ok? Qui si intravede forse qualche carattere, però comunque sia non è che abbiamo risolto granché, pur se vediamo che comunque c'è la nostra bella intestazione, il footer, eccetera. Qual è il grosso, il problema? Il problema è che tutti i dispositivi mobile, implementano, i browser mobile, implementano il concetto di viewport. Cos'è il viewport? Il viewport è una sorta di schermo virtuale, di una larghezza X, di default è 980 pixel, e che è lo schermo attraverso il quale il browser visualizza il sito. Questo per evitare che siti che abbiano un layout fluido si sminchino completamente il termine tecnico nel layout quando li visualizziamo. 980 pixel sono sufficientemente larghi per visualizzare bene qualsiasi sito web, ok? Noi però che stiamo realizzando un sito ottimizzato per mobile, non vogliamo lo schermo di 980 pixel che poi però costringe a zoomare e fa vedere tutto piccolino. Noi vogliamo specificare un viewport nostro, ok? È un'impostazione che si fa nel header dell'HTML che quindi, siccome coinvolgerà tutte le pagine, possiamo mettere nella nostra master page o layout page di MVC. Quindi, sulla layout page, diciamo che il viewport è largo quanto la larghezza dello schermo, ha uno zoom iniziale di 1, quindi 100% di zoom, ok? E massimo zoom di 1, quindi non si può zoomare e ce lo troviamo già ottimizzato. Solo con questa header, adesso se torniamo a guardare il sito, ecco, una volta è refreshato, si legge quasi con sta schifezza di interfaccia, però vedete, già è molto, molto, ma molto più fruibile, no? Abbiamo messo, abbiamo del testo che si legge benino, no? Senza dover zoomare, eccetera. Perfetto. Ora, magari, mettiamo anche qualche altro contenuto. Potrei tranquillamente aggiungerlo, aggiungerlo qui in pagina, però, come vi dicevo, fare una cosa di questo tipo, mettere un altro po' di roba, però, come vi dicevo, magari è un qualcosa che può risultare scomodo per l'utente. Magari in basso, tra un attimo, metteremo una toolbar di navigazione qualcosa e uno che vuole navigare su un'altra pagina è costretto a scrollare tutto e ad andare giù sulla toolbar, no? Non è il massimo. Quello che possiamo fare, allora, è mettere tutto questo contenuto in una seconda pagina. Ma come? Dobbiamo realizzare un'altra pagina HTML, ASPX, eccetera? No. Basta creare un nuovo gruppo div data role uguale page header e footer content e footer ok qui rimetto il contenuto come era prima footer lo stesso e qui metto tutto quel mio popò di roba ok? Questa è una pagina logica di GQM che risiede dentro la pagina fisica index.cs.html per default viene visualizzata solo la prima la seconda ha un suo ID che per esempio potremmo chiamare secondary page ok? E qui nella prima pagina possiamo mettere un link che punta all'anchor secondary page altre informazioni ok? e GQM mi consentirà consentirà tramite questo link di navigare verso la seconda verso la seconda pagina allo stesso modo nella seconda pagina possiamo mettere un link che rimandi alla prima pagina logica lo lo ho creato lo mettiamo nel header e ci sono ci sono un po' di cose in più fondamentalmente si tratta sempre di un link che rimanda ad un ID main lo scriviamo su ID uguale main e ha un po' di di attributi in più tipo data icon home che mi fa vedere mi farà vedere una casettina data icon post no text cioè mi fa vedere solo l'icona senza il test insomma c'è tutta una serie di di attributi in più che possiamo mettere per personalizzare il look del nostro del nostro link benissimo vediamo un attimo qual è il risultato di questo di questo rubino che abbiamo fatto fino ad ora questa volta lo guardiamo qui sul browser ok immaginiamo che questo sia più o meno la dimensione del nostro del nostro sito vedete c'è altre informazioni e c'è anche un carino effetto di transizione un effetto di transizione tra una pagina e l'altra dove vediamo l'altra parte del contenuto e qui in alto vedete c'è c'è l'icona della casetta che mi fa la transizione verso l'altra la pagina iniziale ok tutto nella stessa pagina carino semplice cioè alla fine abbiamo messo solamente due tag due attributi in più nei tag perfetto ottimo non faremo solo due pagine magari ne faremo un po' perché non realizzare una toolbar magari da mettere qui sotto nel footer realizzare una toolbar in jQuery mobile è estremamente semplice perché basta realizzare un div in cui mettiamo data ops sono andato sopra in cui mettiamo l'attributo sempre e solito data role uguale navbar e dentro c'è una lista con una serie di link un po' come faremmo in HTML standard magari poi con un CSS che li affianca in maniera opportuna però mettiamo una serie di link e basta quindi href uguale qualcosa link 1 copiamo una cosa brutale e l'effetto di questa di questa modifica è questo qua vedete c'è una bella toolbar in basso messa sul footer schinnata come il footer che ci permette la navigazione ok anche questa possiamo decorarla con icone fare quello che vogliamo io me ne sono creato una per per la demo che non sono stata a scrivere altrimenti avrei impiegato troppo tempo eccola qua questi per chi non conoscesse MVC sono fondamentalmente degli helper per creare dei link in base ai parametri di routing però immaginatevi come dei link veri e propri in cui ho messo anche qui delle icone grid star eccetera gear una cosa veloce le icone ce ne sono alcune predefinite ma possiamo ovviamente mettere anche le nostre personalizzate vabbè fatto sta che il primo link siccome è relativo alla pagina home lo coloro in maniera diversa dicendo che questo qui è il button attivo così che dia risalti che mi trovo nella pagina di home e praticamente il risultato di questa cosa è questo ok carino perfetto quando ho premuto tracks avete visto che è partita la rotellina lì della navigazione e anche succede lo stesso anche su sugli speakers perfetto cos'è cos'è accaduto dietro le quinte cioè in realtà queste non sono pagine che abbiamo incluso nella nostra pagina index ma sono delle vere e proprie pagine esterne ok ma jqm è in grado di capire che la pagina esterna è in formato jquery mobile effettuare o meglio si aspetta che la pagina esterna sia in formato jquery mobile effettua una richiesta ajax tramite xml http request preleva il markup e lo include nella pagina iniziale in modo da dare la stessa sensazione di continuità della navigazione tra due pagine logiche che avevamo visto all'inizio della sessione ok quindi è carino perché dà proprio un'idea di uniformità del sito nonostante in realtà siano proprio indirizzi differenti ok perfetto quindi a che punto siamo arrivati abbiamo fatto la home page una tool bar in basso e a questo punto magari dedichiamoci alla pagina degli speaker pagina degli speaker che al momento latita allora sto andando troppo veloce live più o meno sono cose semplici allora pagina degli speaker pagina degli speaker ho già tutto il layout che abbiamo visto prima pronto ho già scritto il codice lato server che va sul database eccetera quindi abbiamo semplicemente i dati da mostrare bene ora qui dovrei replicare di nuovo la navigation bar eccetera in realtà possiamo fare se siamo su webform su uno user control ovviamente piuttosto che un html helper su mbc io già me li sono creati quindi qui scrivo html header qui scrivo questi li ho creati io poi magari non fanno altro che mettere il markup che abbiamo visto prima navigation bar 2 2 è il secondo item selezionato il terzo item selezionato così che me lo evidenzia in maniera diversa come abbiamo visto in home e html punto footer benissimo mettiamo adesso qua un bel elenco di speaker come visualizziamo normalmente un elenco in html ancora una volta con il tag ul giusto quindi facciamo una bella intestazione h1 gli speaker facciamo una lista e poi per ogni speaker in is punto model punto speakers aggiungo un li con per esempio h1 speaker punto name e p speaker punto title una lista ok bene mi basta scrivere qui data roll sulla lista vedete sulla lista data roll uguale list view ok perché il markup della pagina speaker sia parecchio più carino eccolo qua già tutto bello schinnato dove è stato specificato il title appare sotto evidenziato diversamente eccetera vi dirò di più potrei per esempio pensare di inserire un image dello speaker vedete image source uguale qui calcolo l'url in base al codice dello speaker jqm ridimensiona automaticamente l'image per mostrarla a un quadrato 80x80 pixel in modo da mostrarla correttamente all'interno della nostra lista e il risultato è questo ok qui chrome fa un po' una schifezza che mette una barra però in realtà fate finta che non ci sia tanto sui dispositivi non c'è ok poi se tutto questo blocco qua viene wrappato da un link verso un'altra risorsa ad esempio quindi una cosa di questo tipo vedete ho messo un link alla action profile a cui passo lo speaker code cioè la pagina di profilo dello speaker ok semplicemente per aver wrappato l'indice l'elemento della lista da questo link il risultato è questo ok ogni elemento è cliccabile Andrea Saltarello mi sa che non ha messo il profilo corrado ecco qua si va sulla pagina di dettaglio ok questo veramente con uno sforzo se ci pensate è minimo perché qual è il grado di invasività sul markup che abbiamo scritto veramente minimo si tratta solo di mettere degli attributi che altrimenti vengono ignorati dal browser e ci troviamo gratis tutta una serie di funzionalità navigazione ajax animazioni rendering adatto per mobile guardate qui c'è un pulsantone enorme si può premere facilmente non c'è un link che magari devo andare lì a beccare con la punta del mignolo ok perfetto però gli speaker dei community dei list sono tanti forse sarebbe bene anche consentire la ricerca ok all'interno di questa lista anche qui è semplicissimo perché è solo una questione di aggiungere degli attributi alla nostra unordered list HTML in particolare dobbiamo dire che la lista è filtrabile ok data filter uguale true e poi questo qui è magari il testo che possiamo mettere per invitare a digitare una chiave di filtro ok questo comporta la presenza di una textbox in alto in cui posso scrivere corrado ok e il testo che digito viene automaticamente cercato all'interno del singolo elemento quindi qualsiasi cosa abbiamo scritto nell'elemento per esempio se cerco Microsoft Microsoft Italia viene fuori Santini ok qui viene fuori Saltarello perché c'è Microsoft MVP ok eventualmente se ho necessità di filtrare per una chiave particolare qualcosa posso specificarci anche lì un opportuno tag scritto nella documentazione per dire ok questo elemento risponde alla chiave di filtro X posso personalizzare la condizione di ricerca per default è fatta su qualsiasi parte del campo altrimenti posso mettere solo inizia con mettere una logica mia a piacere insomma è tutto assolutamente personalizzabile in questo senso ok mi piace un pochino perfetto contento beh sì la list view effettivamente è un controllo davvero potente perché ha un sacco di funzionalità davvero che ci arrivano quasi gratis con pochissimo sforzo pensate che se adesso per esempio ci vogliamo mettere a lavorare sulla pagina delle tracks c'è la possibilità gestisce in maniera estremamente semplice una serie anche liste in estate cosa cosa intendo dire con liste in estate ma per esempio sono sulla sulla pagina dei tracks scrivo ul ancora data role uguale list view poi community days sono su due giorni quindi for each day in this punto model punto event all'interno di un giorno ci sono più track giusto quindi for each ma qui non serve questo for each track in day punto lo vuole ah ha fatto questo eh giusto troppa fretta tracks ok e qui mettiamo una serie di l'elenco delle tracks no quindi list item track punto punto title poi magari dentro e questo lo mettiamo dentro un h1 poi dentro lo stesso item mettiamo una seconda lista che sono le sessioni della track quindi ul for each e vabbè va session in track punto sessions e qui mettiamo mi sa che dovrei averlo salvato con uno snippet session details così risparmiamo tempo ecco qua cioè ho messo il link al dettaglio della sessione il titolo della sessione eccetera l'importante è capire che abbiamo creato quindi una lista esterna con una serie di elementi ogni elemento contiene il titolo della track più una sottolista ok tutto in una pagina chiaro? più o meno a tutti quello che abbiamo fatto? perfetto qual è il risultato di sta roba? e un'altra lista di elementi cliccabili cliccabili perché? perché ci sono dei sotto elementi quindi mi permette automaticamente la list view mi consente di fare drill down su una gerarchia di informazioni semplicemente per aver fatto delle sottoliste ok e dentro .NET Framework 4.5 vabbè qui non ho messo non ho messo all'LI ma sto andando alla velocità della luce quindi spero che mi perdonerete ok e ho la sottolista delle sessioni della stessa track tutto in una pagina e poi qui dentro andiamo sul sul dettaglio sul dettaglio della sessione che è una pagina che ho realizzato a parte in realtà ho un po' imbrogliato quando ho detto che l'avremmo fatto in mezz'ora perché un po' sono lavorato a casa però vabbè ok quindi list view possibilità di filtrare layout automatico con immagini eccetera link cliccabili tutto quello che vogliamo drill down nel caso facendo delle sottoliste con drill down automatico sto facendo delle sottoliste quindi controllo estremamente versatile e semplice da utilizzare perfetto siamo arrivati sulla pagina di dettaglio della sessione che posso visualizzare anche con due pulsanti che ho messo in alto next e previous oppure questo che ritorna alla pagina delle tracks nel caso in cui sia al primo della giornata bene mi piacerebbe in questo caso sfruttare le capacità touch screen del dispositivo per esempio dando la possibilità di passare da una sessione all'altra invece che premendo i pulsanti magari con una gesture di swipe sarebbe carino ok un'altra figata di jqm è che espone delle api degli eventi ok per gestire gli eventi touch screen che fanno da wrapper di quelli nativi del browser in modo che sostanzialmente ci troviamo a scrivere una volta il codice con una garanzia una discreta garanzia che funzioni su tutti i dispositivi perché una discreta garanzia perché ci sono alcuni dispositivi purtroppo windows phone è uno di questi che non implementano ancora delle api touch screen in javascript sul browser e quindi non danno alcun tipo di supporto a questa funzionalità però volendo aggiungerla cosa dobbiamo fare? andiamo sulla nostra pagina di dettaglio dove ho già messo gli header eccetera e qui dobbiamo aggiungere il nostro codice per per intercettare per intercettare l'evento di swipe swipe left swipe right eccetera tipicamente come facciamo ad attacciare degli eventi in jQuery di solito scriviamo qualcosa di questo tipo script type uguale text javascript e poi qui dentro dollaro function eh? giusto? e qui poi agganciamo agganciamo i vari eventi siamo abituati a lavorare così giusto? perfetto non funziona non va bene non va bene per due ragioni la prima ragione è che c'è la navigazione Ajax vi ricordate? cioè la pagina viene caricata tramite XML HTTP request quindi il load del document avviene una volta sola alla prima visualizzazione non ci sono successivi load e quindi non scatterebbe mai questo ok? fortunatamente esiste un evento che si chiama page init di esposto da jQuery mobile che mi segnala quando una pagina logica è stata inizializzata quindi ci sono tutti gli elementi la navigazione Ajax è stata ultimata ok? e quindi è tutta a disposizione quindi sarà il nostro page init da agganciare piuttosto che questo che è l'all load fondamentalmente del document ok? secondo problema è che secondo problema è che questa parte qui nella navigazione Ajax viene totalmente ignorata perché quello che viene preso in considerazione è solo il div data roll uguale page quindi se questo è esterno al nostro blocco data roll uguale page la nostra pagina jqum non viene caricato e quindi non andrà mai a finire su quanto viene caricato con Ajax ok? quindi morale della favola di tutte queste elucubrazioni intanto questo lo devo spostare qua ok? quanto meno dentro dentro al blocco div e poi qui devo sfruttare non il dollar function ma l'evento page init io per andare veloce meno male visto il problema che abbiamo avuto mi sono realizzato già lo script e diamogli un attimo un'occhiata allora tralasciamo un attimo questa riga e guardiamo questa questa cerca un oggetto che ha la classe css swipable questo qui e al page init e codice jquery come quello che abbiamo scritto fino a 20 minuti fa cioè davvero standard dollaro dis live aggancio l'evento swipe left quindi swipe per così swipe left cosa vuol dire che voglio andare sul prossimo perché sto scrollando in questo senso quindi cerco il pulsante che si chiama che ha la classe next gli ho dato io e clic stessa cosa nel caso di swipe right questa volta il pulsante previous ok poi giusto per dimostrazione magari non è tanto utile però ho utilizzato anche un evento tap hold che è la gesture di premo e tengo premuto il dito che magari di solito si usa per mostrare dei menu che si aprono eccetera anche questa qui è esposta io qui faccio semplicemente un reload della pagina ok l'altro accorgimento è quello di eliminare gli eventi quando preventivamente ad agganciarli perché nel caso in cui la pagina venga visualizzata due volte altrimenti partono due partono due volte quel codice là ok il risultato questa volta non ve lo posso far vedere ovviamente dal dal computer ma lo guardiamo dal telefono che si vede male però magari prende l'idea allora vado sulla pagina delle tracks mi carica vedete posso scrollare so quanto si vede però più o meno prende l'idea apro il mostarda faccio così faccio così eh ok carino perfetto beh contento che vi piaccia benissimo ultima cosa che vi vorrei mostrare è l'enhancement che dà jqm su sui controlli tipo di una forma no quindi controlli di input perché anche lì è un po' di solito un po' problematico lavorarci su cioè realizzare dei controlli che siano facilmente facilmente fruibili da un device mobile allora io qui ho realizzato una pagina di login dove tipicamente cosa facciamo mettiamo un cioè codice che scriverei dovrebbe essere una cosa di questo tipo label for email per esempio email due punti e qui mettiamo un input type uguale email e html5 possiamo mettere per esempio placeholder uguale email bene facciamo anche un altro input che chiamiamo password ok questa è una tipica tipica form di inserimento dati manca il tag form eccetera ma adesso non formalizziamoci su questo ok bene altra feature di jqum vrappo tutta la form con in un div tanto di solito non fa male ok che ha data role uguale field contain ok salvo e guardiamo cosa accade sulla form prendo il device vediamo se riesco a farvelo vedere da qua allora vado qui form di login non so non si vedono tanto ma forse così un pochino ok si vedono email eccetera con i placeholder perfetto il fatto di averlo vrappato dentro field contain cosa mi dà in più mi dà che se l'utente sta visualizzando il sito così adesso lo vedrete al contrario speriamo non vi venga il mal di mare però però non riesco a farlo vedere ah forse ecco ah qui non sono andato non ho messo correttamente il riferimento aspettate che non si stiamo label for password si mancano gli id questo è id uguale email e questo qua è id uguale password ok scusate ricarico perfetto quindi nel caso in cui l'utente lo visualizza in landscape vedete come si allineano i controlli con le label di lato si leggono appena però le label sono di lato i controlli sulla destra se invece sono in modalità portrait le label vengono messe sopra ok questo viene perché così resta più spazio per le textbox ok e questo è già un ulteriore facility che può risultare molto comoda una form complessa tipicamente ha tante altre tante altre informazioni ve lo faccio vedere proprio velocemente io qui ho messo per esempio un paio un paio di radio button ok all'interno di un field set ho messo un select ok e un input type uguale submit alla fine qual è l'effetto di tutto questo vi faccio notare il field set che racchiude il radio button ha data roll uguale control group comunque sono tutti i dettagli che vi potete guardare comodamente scaricando l'esempio e il risultato di questo markup è qualcosa di questo tipo ok email password questi sono dei button cliccabili qui adesso sul telefono in realtà viene gestito come la select nativa quella che va tutto schermo eccetera però comunque c'è un bel pulsantone grosso che è facile da premere non è solo la select streaming sita dell'html ok e il button bello grosso e ciccione che così non possiamo sbagliarci ok quindi anche enhancements dal punto di vista delle form ultimissima cosa tutto quello che abbiamo visto è stato realizzato davvero in maniera semplice però c'è tanto lavoro che viene fatto dal framework giusto solo che si corre un grosso rischio cioè che tutti i siti fatti con jqm sembrino uguali perché alla fine i button sono quelli l'intestazione è quella lì i colori magari si li possiamo cambiare però il look più o meno quello là in realtà è possibile davvero personalizzare tantissimo del look del look del sito lasciando inalterato solo le funzionalità fondamentali o addirittura attivare le funzionalità fondamentali tipo navigazione ajax eccetera da codice javascript ok quindi skin nostra completamente nostra codice javascript che chiama le funzionalità di jQuery mobile per dirne una quindi davvero si può andare a qualsiasi livello di dettaglio questo è uno sviluppo per forza di cose rad quindi non ci siamo spinti fino a quel punto esiste un tool che il cui link è pubblicato proprio sul sito un tool online che permette sul sito di jQuery mobile che permette di generare graficamente la skin per il nostro per il nostro sito web cioè praticamente io sono lì che vedo tutto un esempio di controlli le pagine come vengono fuori cambio i colori cambio di quanto devono essere arrotondati i bordi tutta una serie di robe e alla fine mi fa scaricare il CSS ok che è veramente utile e comodo però comunque poi alla fine è un markup normale quindi lo possiamo dare in pasta a un grafico e si può divertire quanto vuole quindi concludendo un paio di link utili questo è il sito dove trovate documentazione eccetera altrimenti potete installarlo comunque con NuGet questo è il Team Roller cioè questo tool di cui vi ho appena parlato l'indirizzo jQuery mobile punto com slash Team Roller che potete utilizzare per personalizzare al massimo il vostro sito web mobile e niente due piccoli messaggi promozionali sui nostri libri se vi interessano e materiale domani se avete bisogno visto che ho rubato dieci minuti di domande eccetera c'è tempo? ah c'è il break perfetto allora non ho rubato vi ho rubato ho rubato a voi grazie 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 a tutti.